Buongiorno a tutti, riprendiamo ora in mano la nostra API e vediamo di proteggere alcune endpoint da accessi non autorizzati. Per farlo dobbiamo anzitutto, come abbiamo accennato nel video precedente, andare a crearci un punto di ingresso, o meglio una rotta, una route accessibile a qualsiasi utente, attraverso la quale l'utente possa ricevere il token per l'autenticazione. Quindi siamo nel nostro index.js e ci creiamo questa nuova route. Creo route aperta per rilasciare il token. Ovviamente dovremo utilizzare il metodo post, in quanto il client dovrà inviare al server le credenziali che verranno da server verificate e in caso di check positivo il server ritornerà al client il token. Avremo quindi una app.post, chiamiamo il nostro endpoint login, dopodiché rec res andiamo adesso a impostare il contenuto della nostra app.post. In prima battuta facciamo un console.log di recbody, quindi andremo a vedere esattamente il contenuto della richiesta che viene inoltrata dal client e facciamo un res.send autenticazione avvenuta con successo. Perfetto, salviamo. Andiamo a vedere adesso quello che succede nel lato server. lato server. Noi avremo la nostra rotta. Login. Avremo il post, il metodo post. Vorremmo inviare nel body della richiesta le credenziali d'accesso, quindi l'username, facciamo un send autenticazione avvenuta con successo, quindi la nostra rotta ha ritornato esattamente quello che volevamo e vedete a console abbiamo visualizzato il corpo, il contenuto della richiesta. ovviamente noi dovremo adesso gestirci meglio questa autenticazione avvenuta con successo, perché dovremo andare a utilizzare, applicare a questa rotta un middleware che io chiamo login. questo middleware cosa fa? Andrà a verificare effettivamente che il nostro username admin sia quello del utente che può effettivamente ricevere il token. Quindi questo sarà il nostro middleware, dovremo quindi andare a crearci un file js, creo una cartella new folder, middleware, e all'interno di questa cartella creo il file middleware che chiamo login.js. Anzitutto questo file, subito faccio un modulo, anche se vuoto, .exports, login, ci sarà infatti una cost login uguale, lasciamo questo, poi andremo a gestirci. Parallelamente nell'index dovremo avere un cost, un import, quindi cost login, require login. e quindi possiamo andare a gestirci adesso il middleware. Allora abbiamo detto che il middleware in realtà non è altro che una funzione anonima, quindi tre parametri, rec, res e next. Cosa manda? A console, il body della richiesta e dopodiché abbiamo un next. Salviamo, salviamo, mi da un errore, andiamo a vedere l'errore. Non può trovare il modulo login. Salviamo, adesso funziona tutto. Facciamo un send, autenticazione avvenuta con successo, e parimenti andiamo a visualizzare a console esattamente il contenuto della richiesta. Però questa volta l'abbiamo fatto poi attraverso il middleware. Prima di completare la nostra funzione di login, quindi il middleware, dobbiamo però crearci una serie di funzioni che ci consentiranno di impostare il token, di avere il payload del token e poi, quando ne avremo bisogno, di verificare il token. Creiamoci quindi, sempre all'interno della cartella middleware, un nuovo file che io chiamo jvt.js. Prima di andare a lavorare su questo modulo, che sarà il modulo per gestire la logica inerente al token, dovremo andare a importare, o meglio installare, appunto jsonwebtoken. Quindi, termino il processo, sì, sono convinta di farlo, sì, e adesso faccio un npm install jsonwebtoken. Una volta che il pacchetto è stato installato, nel mio file jvt.js, importo il modulo. Quindi consta jvt uguale require jsonwebtoken. Adesso cominciamo a implementare i tre metodi di cui abbiamo accennato prima. Quindi il primo metodo che si occuperà di rilasciare il token. Un secondo metodo che darà il payload del token. E un terzo metodo che si occuperà di verificare il token. Cominciamo col metodo che si occupa di rilasciare il token, e lo chiamiamo let set token uguale. Allora, i parametri di input di questo metodo potrebbero essere id, username, password. Noi usiamo solo username, ad esempio. Dopodiché, questo metodo, ecco qua, andrà a utilizzare una funzione. Una funzione della libreria jvt. Questa funzione, che si chiama sign, ci consentirà di avere il token. Questa funzione ritorna proprio il token. Quindi noi avremo let token uguale valore di ritorno di jvt.sign. Cosa prende questa funzione come parametri? Anzitutto prende il payload. Abbiamo visto nel video precedente cos'è il payload. Dopodiché prenderà come secondo parametro la chiave, la shared key, che noi possiamo, secret, per adesso la lascio così, molto brutta, ma va bene. E poi posso andare a indicare un terzo parametro, che io chiamo option. Nel terzo parametro possiamo avere alcune informazioni, tipo l'algoritmo che andremo a utilizzare, piuttosto che la durata del token. Dobbiamo andare a costruirci adesso questo payload e queste options. Allora, il payload dipende da che cosa, ovviamente, dagli input che diamo alla funzione set token. E quindi, let payload, eccolo qua, cosa sarà? Non sarà altro che lo username, ok? Nel nostro caso prendiamo in input solo username. Dopodiché, option, option lo andiamo a dichiarare qua fuori, perché lo utilizzeremo anche successivamente. Un altro oggetto, json. E possiamo andare a indicare nelle options l'algoritmo e cominciamo a indicare l'SHA256, che è l'algoritmo che condivide la chiave, una chiave segreta, ma comunque una chiave condivisa. E indichiamo come tempo di durata del token, ad esempio, un'ora. Quindi abbiamo detto, questo metodo prende in ingresso l'username, costruisce il payload, e grazie a un metodo della libreria JVT, a cui passo il payload, la chiave segreta e le options, che ho appena definito, mi ritorna il token. Quindi alla fine avremo un return token. Perfetto. E questo è il primo metodo del modulo JVT. Il secondo metodo è il metodo che estrae dal token il payload. Chiamiamo il metodo letGetPayLoad. Il parametro in ingresso, l'input, sarà ovviamente il token. Questo metodo ci dovrà ritornare il payload. Diciamo in chiaro il metodo che bisogna andare a utilizzare. Qua Copilot ha sbagliato, è il decode, perché dovremo andare a decodificare che cosa? Il token. E otteniamo il payload, però dobbiamo anche indicare un secondo parametro, che è completeTrue. Significa che stiamo richiedendo un completo decoding. L'ultimo metodo della nostra modulo JVT è il metodo che verifica appunto il token. Let, lo chiamiamo checkToken. Ovviamente prenderò in input il token che dovrò andare a verificare. Questo metodo in realtà non è necessario che mi ritorni qualcosa, perché lancia un'eccezione se il token non è valido. Quindi possiamo semplicemente scrivere in questo modo, JVT.verify. Cos'è che dobbiamo passare come parametro però a verify? il token, la nostra chiave segreta e anche le options, perché io vado a verificare che il token che ho ricevuto abbia una certa data di scadenza, ma soprattutto sia anche stato codificato utilizzando un determinato algoritmo. Una volta che abbiamo questi tre funzioni, facciamo un modulo.export di tutte e tre, salviamo e siamo pronti per andare a utilizzarle anzitutto nel nostro login.js. Spostiamoci quindi in login.js e mettiamo mano al middleware. Anzitutto dovremo andare a importare il modulo JVT, quindi const JVT uguale require, non JSON Web Token, ma noi vogliamo importare JVT.js. Una volta che abbiamo importato il modulo JVT, mettiamo mano al console login, lasciamo il console log RECBODY, ma prima di andare in next, dobbiamo andare a verificare effettivamente se il corpo della richiesta è il nostro, ad esempio, admin. Quindi facciamo if REC.body.username uguale uguale admin, noi abbiamo deciso di inviare per semplicità semplicemente lo username. Allora, in questo caso dobbiamo andare a creare il token, quindi richiamare la funzione setToken. Quindi let token sarà uguale a JVT punto setToken e e al setToken dovremo passare il nostro bodyUserName. La funzione che stiamo chiamando è esattamente questa. Quindi dobbiamo passare lo username. Quindi questa funzione ci ritorna il token. Verifichiamo se almeno questa prima parte è funzione, facciamo un res punto send login effettuato con successo e magari visualizziamo anche il token. Salviamo npm run dev andiamo in postman e verifichiamo se funziona tutto. Login effettuato con successo e guardate che bel token è stato codificato. Ok, quindi finora tutto a posto. Ovviamente a noi questo restentò che non interesserà quindi lo commento. Ci interessa però andare a visualizzare il token perché ci servirà poi per autenticarci. In realtà questo token viene ritornato al client che lo utilizzerà ogni volta che farà richiesto di un endpoint della nostra rest api. Quindi in qualche modo ce lo dobbiamo catturare. Per adesso lo mandiamo semplicemente a console e lo copieremo quando ci servirà console.log token dopodiché in questo caso effettivamente se tutto funziona per il verso giusto next next in caso contrario quindi se per qualsiasi ragione l'utente non viene autenticato rest status 401 login fallito risalviamo e verifichiamo se funziona nel caso in cui lasciamo admin questo 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 body vedete il middler ha funzionato io sono stata autenticata e visualizzo esattamente questa parte qua che è questa autenticazione avvenuta con successo e a console abbiamo come volevo il nostro token se io adesso provo e cambio ad esempio e lo chiamo pippo faccio send login fallito quindi il middler ha interrotto il flusso dell'applicazione in particolar modo non ha autenticato non ha riconosciuto l'utente non viene rilasciato il token e quindi l'utente non potrà autenticarsi direi di fermarci qui abbiamo quindi gestito per adesso l'autenticazione dell'utente attraverso una root aperta e questa root ritorna all'utente al client anche il token nel prossimo video vedremo come fa il client a utilizzare questo token per autenticarsi grazie a tutti per l'attenzione e a presto